E io voglio un uomo scudetto, non è doveva fare uno cinema a lui, perché se aveva questo cuore non ho provato, non è stato cambiato. Perciò voglio, se lo faccio con noi, su un uomo Francesco, tutti quanti assieme voglio con Santa Lucia. Santa Lucia di Serino si mobilita nel ricordo di Francesco Lodia. Il giovane è scomparso improvvisamente lo scorso 12 luglio, alla tenera età di 24 anni. Venerdì 2 giugno, per molti non è un giorno qualunque, ma ricorre il giorno del compleanno di Francesco e la comunità luciana si appresta allo stesso tempo di festeggiarlo, organizzando un memorial in suo onore. Francesco Lodia ha lasciato un voto incolmabile in tutti e soprattutto alla squadra del Santa Lucia di Serino, di mister De Stefano, che gli ha dedicato la vittoria del campionato di terza categoria e quel cuore sulla divise, con la scritta Francesco in bianco, resterà lì attacchiato per sempre. Ed allora spazio ai bambini, spazio alla seconda edizione della Notte Bianca dedicata ai piccoli, con musica, intrattenimento, giochi, trucchi a bimbi. Ci sarà anche l'elezione della Miss e Mister Baby, tutto nella centralissima piazza San Giuseppe Moscati a Santa Lucia. Francesco con il suo sorriso guarderà tutti dall'alto e viglierà sulla buona riuscita della manifestazione.